Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita Iniziamo riparando alcuni dei nostri oggetti perché purtroppo stanno lentamente svanendo nel nulla cosmico E quindi mi piacerebbe, sai com'è, preservarli il più possibile Allora, ho terminato la farm di ferro ma ve la mostrerò magari alla fine episodio Ho già preso un po' di ferro, funziona, son contento L'unico problema è che per l'appunto è lontanuccia ma l'avevo già detto E quello che dovrò fare è iniziare a costruire delle cose anche da quella parte di mondo E quindi una delle prime cose che farò è costruire il mega tunnelone che va di là Però, dando un'occhiata a quella parte di mondo, mi sono fatto delle domande su questa parte di mondo Che è all'antitesi, no, che è dall'altra parte E mi chiedevo cos'è che manca, tra virgolette, oppure che tra virgolette stona Ora non per cattiveria, però vi avevo già accennato che probabilmente avrei rifatto la casa di Favij Ovviamente questa resterai mutata, nel senso che questa rimane qui E la casa di Favij è bella così perché l'ha fatta lui E quindi quando un ospite viene di Minecraftita e fa una costruzione è sua a prescindere Però, all'inizio, non so se ricordate i due episodi con Favij L'idea iniziale era quella di fare una casa nell'acqua, non uno yacht E quell'idea mi piaceva molto 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 Ed è esattamente quello che andremo a fare Andremo a costruire una casa sull'acqua Io ho qui il mio zainetto giallo Ho preso già un bel po' di roba Per quello anche che ho riparato, ad esempio, la palla Perché un botto di sabre ho dovuto prendere E complessivamente sono un bel po' di materiali Non tantissimi Però non voglio neanche fare una casa gigantesca L'idea che mi è venuta è di fare una casetta circolare Cioè a base circolare Quindi faccio un cerchio E su quel cerchio costruisco una mini casa sull'acqua moderna Dove mi è venuta questa idea? Mi è venuta guardando i video Di questo vlogger arabo Che... vlogger in inglese in realtà Però lui è arabo Tipo è stramilionario di famiglia È straricco Si chiama tipo MoVlogs E lui fa... lui è straricco, ok? Lui è semplicemente proprio straricco E mostra nei suoi vlog la vita di un milionario Ed è una cosa che un po' Cioè è figa, ok? Come può essere bello vedere i vlog Di chi vive in Giappone O di chi vive in... cazzo so In Cile È molto bello anche vedere la prospettiva di uno che è milionario E che un pomeriggio Cioè questo vlog che ho visto In cui lui un pomeriggio Non sa cosa fare Va con un suo amico Prende lo yacht Un mini iottino Però comunque uno yacht E va tipo al... Al largo da... Da... Da Dubai se non sbaglio Va a largo di Dubai E cos'è che va a fare? Va a prender... Va a vedere una casa che probabilmente dopo ha comprato Che è fatta di... Acqua... Cioè è fatta sull'acqua È una casa sulla... Eh... si... Ok... Continuiamo a parlarne eh? Praticamente ho visto questa casa tutta di vetro sull'acqua con la piscina incorporata tutte cose È... È bellissima che costa tipo 3 miliardi di non so cosa Un po' strano È un po'... Oh mio Dio Va bene Allora prendiamo anche un po' di quarzo perché devo costruire le cose Prendiamo il zainetto e iniziamo a costruire Allora il mio suggerimento quando si parla di cerchi è sempre di non farli troppo piccoli Quindi direi dal centro ci allunghiamo per 6 blocchi 1, 2, 3, 4, 5, 6 In tutte le direzioni Perché quando si parla di cerchi c'è sempre una cosa da considerare Perché è iniziato a piovere Perché inizia sempre a piovere Dicevo c'è sempre una cosa da considerare con i nostri amici cerchi Minecraft Che più piccoli sono più brutti verranno Questo se non sbaglio è lo stesso design che ho usato per la fontana che ho di fronte alla mia casa Alla mia magione dove ho messo la scultura del piccone Tu metti 5 blocchi qui in fondo e poi colleghi Ci metti 2 blocchi in diagonale, un blocco singolo e altri 2 blocchi in diagonale E colleghi le due cose E viene una cosa di caruccio Di carino Si dovrebbe venire una cosa di caruccio in teoria Spero Già facendo così dovremmo esserci Pure i tuoni, i lampi Oh mio dio Dove siamo in Frankenstein? Grazie Se evitiamo di far spawnare qualche mostro malefico che vuole uccidermi nel sonno Io sarei anche contento Cioè no è per dire Ah cazzo qua ho sbagliato Il mio blocco di quarzo Già ne ho pochissime Ok questo in teoria è il cerchio Poi visto che voglio che sembri moderna Ma non voglio sprecarci Un'ira di dio di materiali Mettiamo solo il cerchio esterno di quarzo Cioè non sono mica scemo Dentro lo facciamo di stone bricks che tanto ne ho un botto Me ne sono avanzati un casino dalla costruzione della farm di ferro Perché ne avevo fatti su fatti tantissimi su tantissimi tantissimi E alla fine non usati così tanti Usati tanti eh ma non tantissimi Che sto dicendo non lo so Fatto sta che il fatto che stia continuando a piovere mi da un po' fastidio Ecco ho abbassato il volume perché altrimenti è davvero un fastidio incredibile Allora una volta costruito il cerchio di base La mia idea era la seguente Voglio che ci sia tipo in mezzo Un qualche tipo di pilone o una scala a chiocciola che colleghi i due piani Perché voglio che sia di due piani più un terrazzino E il tutto sempre circolare Quindi voglio vedere uno quanto grande deve essere E per vedere quanto grande deve essere devo vedere quanto vetro ho Perché comunque devo fare la divisione Quindi facciamo una cosa di questo tipo Prendiamo tutto il vetro che ho e iniziamo a piazzare blocchi E vediamo fino a che punto arriviamo Tra l'altro qui nell'angolino Direi di fare una piccola Una piccola uscita di questo tipo Per le barche Perché in qualche modo bisogna pure arrivarci E poi invece di qua Quindi lasciamo uno spazio così Qui iniziamo a piazzare i blocchi Buongiorno signor zombie Che io in realtà odio tantissimo Mi sta disturbando mentre sto facendo una costruzione Ho capito che è notte ma sai com'è Essendo in mezzo all'acqua Speravo che nessuno mi rompesse i cabasisi E invece no Zombie da tutte le parti Mori! Qualcun altro? Quello è una squid? Ok dovremmo esserci C'è vamo Lasciata da parte Per l'appunto la parte in cui dovevi entrare con la barca Perché oppure con l'ender per l'insomma L'entrata Possiamo piazzare i blocchi Come cavolo ci pare Io ne piazzo due perché è il massimo che posso piazzare alla volta Poi vediamo quanto altro fa Io pensavo o un tre o un quattro blocchi di altezza Quindi non basso ma neanche altissimo Anche se per dare un giudizio come si deve Beh dovrei guardarla da lontano Ormai che di notte sicuro trovo qualche creeper Mamma mia Guardate che così vorrebbe dire E basta zombie Manco fosse un villager Ah boia Comunque in questo momento dovrei mettere un altro livello di quarzo Per completare questo piano Per l'appunto E poi fare il secondo e il terrazzino Però a questo punto io direi Ce l'abbiamo un po' di vetro Sai che forse devo fare altro vetro? Facciamo quattro livelli Facciamo quattro livelli di vetro In modo che viene qualcosa di davvero figo spero E non badiamo a spese Tanto in realtà il vetro bianco è una cagata da fare Ho avuto riparato la palla quindi scialla Ora piazziamo invece il quarzo E andiamo a creare anche il secondo livello Ok quindi in realtà ci sarà da fare un lavoretto Per chiudere il cerchio Così e così Per quanto riguarda il soffitto Allora già così mi piace molto Perché non sembra Ma da fuori credetemi Sembra molto molto moderna Una di quelle case per l'appunto Che ho visto nei vlog di questo Di questo mo Che è un milione Mannaggia lui Ehm dicevo Stavo pensando di fare il tetto Tutto in slab di quarzo Ora io ne ho ancora due stack di quarzo Anzi quattro stack di quarzo E me ne avanzano ancora un po' Che non ho trasformato Perché potenzialmente potrebbero servire in futuro Quindi dovrei riuscirci a fare tutto di slab E in questo modo da qui io vedo Sopra il soffitto in quarzo Da fuori anche in teoria dovrei vedere Che è fatto di quarzo Quindi è più bello Ehm Possiamo provarci Tanto la crafting table ce l'ho Il tempo la voglia di fare La voglia di fare sì Il tempo un po' meno Perché vi spiego un attimo Com'è la situazione attuale Io Oggi è mercoledì Si oggi è mercoledì 21 giusto Oggi è mercoledì 21 Io Tra non so Penso Penso domani O dopo domani Devo tornare a casa per il Natale E devo pre-registrare i miei video Fino a quando torno Ora non sarò via tantissimo Ma comunque sarò via un bel po' Di anticipare tutti i video in un giorno e mezzo E quindi diciamo che il tempo Si che ce l'ho Però non moltissimo E piazzare questi slab Sarà un incubo Perché sbaglio sempre E ogni volta che li rompo Poi devo ripiazzarli tutti Mamma mia Considerate che in questo soffitto Per l'appunto ci andrà il famoso buco Che vi dicevo per metterci la scala a chiocciola anche Ok ho completato il soffitto E già così direi che una bella bella casettina Però voglio anche fare questa cosa della scala a chiocciola Quindi io direi prendiamo dei blocchi Che piazzeremo al centro E questo è il centro E piazzeremo dei blocchi tipo così Mettiamo un buco lì perché tanto ci mettiamo questo qua Perfetto E attorno a questo andremo a costruire le scalette Ora ho una bella scaletta di quarzo Come si può fare? Senza che sembri troppo bruttina Prendiamo anche dei blocchi perché mi servono Io direi facciamo una cosa di questo tipo Molto molto easy Però dovrebbe funzionare Ovviamente sarebbe da levare un bel po' di blocchi Già così penso di riuscire a salire Ok manca solamente un ultimo blocco di qua No? Errore Boom Ok la scala a chiocciola ce l'abbiamo Direi che ci può stare Se sai che qui Non so se tenere i blocchi così O metterci anche quelli piccolini Se io faccio così più bella Beh di sicuro sembra più robusta Anche se mi piace di più senza Quindi li leveremo Non scavare troppo veloce amico Ok già così abbiamo la nostra Bellissima e simpaticissima casetta Ora detto questo Ci sarebbe da fare il prossimo strato Di vetro e sono altri quattro prezzettini Olè Ok quasi finito ci siamo Ora manca appunto l'ultimo livello L'ultimissimo livello E anche qui direi di utilizzare il quarzo Per dare la botta finale Perché voglio che sembri il più moderno possibile E quando si parla di modernità In Minecraft per far sembrare qualcosa di moderno Devi mettere dei colori chiarissimi E qua il colore più chiaro del bianco Del quarzo che è un blocco bellissimo Tra l'altro Ok poi semplicemente iniziamo a riempire anche qui con gli slab Andiamo a prendere la crafting table Che l'ho lasciata qua sotto E quello che continua a piovere Piove pioviscica il culo Te si appiccica Scendi la candela Ah eccolo il sole Alleluia Era anche ora zio Mamma mia Io voglio stare attento A dove lasciare il buchetto Per andare sul terrazzino Perché io il terrazzino ce lo voglio mettere E' una cosa bella secondo me Mmmmm Ok con questi ultimi slab e blocchi di quarzo In teoria dovrei riuscire a completare il tutto E a fare anche la scaletta Che mi porta poi al terrazzo Allora per fare questa scaletta Io continuerai di qua in realtà Quindi io sto facendo una cosa di questo tipo Sciradino Allora di qua si sale Piazziamo gli altri blocchi fino ad arrivare in cima Ok direi che ci possiamo essere Io posso fare così E sono in cima E di qua scendo E la nostra chiocciola è completata Questa è la base della casa Ovviamente va arredata Vanno messe le torce Le luci Va messo Vabbè la crafting table Potete lasciarla addirittura qua Questa Minecraft un'altra Ora con me non ho della cobblestone Ma ci metteremo anche delle fornaci Dei tappetini Ehm Questa è solamente per appunto la base Ci potremmo mettere che ne so Il divano con la tv E questo poi vorrei metterci Le I cobblestone wall Secondo me è una cosa carina Ehm Proviamo a prendere un ender Per andare In culo al mondo Sopra all'albero E vedere cosa succede Vediamo com'è sta casetta Direi che ci sta Direi che ci sta Immagina tutta arredata Che si vede Che si vede non vede dentro Bella 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 Per entrare dentro Al volo Alla grande Ok ragazzi Ho arredato il tutto Ci ho messo tipo Ora vi faccio vedere per bene Ho messo anche cobblestone wall in cima Ehm Non è Ricchissima Come caso ovviamente Anche perché l'ho appena costruita Ci ho messo 5 minuti ad arredarla Ehm Ho preso un po' di cose a caso Che c'erano nel Nel magazzino Qui e li ho piazzate dentro E volevo farvi vedere Com'era da lontano E com'era poi Dentro Cioè all'interno Buttiamo le cose che non ci servono Ehm Direi che ci può stare Come casa moderna Ehm L'unica cosa che non piace tantissimo E' quel tavolino che ho piazzato lì Che dovrebbe fare tipo la scrivania Però non Non mi ispira tantissimo Allora andiamo a vedere Entriamo Cioè sulla sinistra Il banco da lavoro Fornaci e cazzi mazzi vari Le barche che ho in realtà Ho piazzato Anche se non le userò Penso che userò sempre le enderpearl Ehm Però sono carine da Vedere per riempire lo spazio Dei fiorelli Cioè dei fiorelli Degli alberelli dentro i vasi Qua avevo dei dispenser Non utilizzati Ho detto vabbè Li piazziamo a caso Perché fa figo Con delle ceste che sono rigorosamente vuote Ho piazzato un'altra cosa che avevo Che non mi serviva Cioè l'activator rail Con la No no è la detector rail questa O l'activator Non lo so Con sopra una cosa di nether track Di nether rack Di nether brick L'ho azzeccato? L'ho azzeccato Al secondo piano invece Abbiamo una tv Molto rudimentale Ma abbiamo una tv Ehm Una scrivania Che è vuota Perché non sapevo cosa metterci sopra Il lettino con il comodino Con la torcetta E basta Praticamente E poi c'è qua Il terrazzino Ma non è nulla di Non c'è nulla Perché non sapevo cosa metterci E questa è la casa moderna Ho rifatto la casa di favvj Alla fine Perché questa deve essere la vera casa di favvj Una casa che va nell'acqua Ed è bella E chi è che mi ha sparato Mortacci tua Beh come ho detto Non fraintendetimi Lo yacht rimarrà lì E comunque caruccio Però come casa sull'acqua Direi che questa è una bella combo Magari quella è la nave Del milionario Che ha comprato anche questa casa No? Ci sta Comunque Per questo video è tutto Io vi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo lasciare un mi piace Se vi è piaciuto questo video Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Seguimi su Twitter, Instagram, Facebook E ovunque voi vogliate E io vi saluto Ciao a tutti